Cripparo, Muschiello, Guglielmo, Corrizzo, Federici, Seriani, Varani per Rolling Bosica, Zanin Pagadello, Forreo per la lunga per la corrispettiva Berlusco, Ferretto, Politi, Solce, La Voluna, Sbocca, Canadi, Maghida, Di Parma, Lantini, Valanzana, con Mamezzana, ma ecco le zone a cambio. E' Rolling Bosica davanti alla Casier, poi una Sport Academy, poi la Mamezzana, poi Politi, Fina, Bellusco, poi Concorezza. Cambio, attenzione, 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 prece, sca, sca, pia, un pasticcio nella zona cambio. Zanacambio, ecco qua, libera la pista, cambia là. Bellusco, poi Concorezza, poi Luna Sport Academy. Ci ripresentano alla cambio. Bellusco, una Sport Academy. E schiacca il mio concorrezzo. E' un'altra squadra, un'altra squadra rimasta in gara, nuova in presa una cambio. Bella, l'una Sport Academy, ora che si è portata in testa con il Toscatino con corrispettivo. La Sport Academy... Un'altra squadra, una squadra, un'altra squadra che mi usco. al passaggio almeno 6 è una specchia di concorrenza davanti alla Luna Sport Academy la squadra della Luna Sport Academy in zona cambio cambia la Luna Sport cambia la presportiva Lurusco e anche lo scattivo di competizione e altrimenti si riportano in zona cambio cambiano e si trova una conferenza ora che allunga con la squadra del Lurusco che prova ad andare a recuperare cambio lungo per la Luna Sport Academy sono gli ultimi cambi a passaggio con Panciri a meno 2 sono gli ultimi due frazioniste in queste squadre con lo stepping a puntare il suono in testa poi una sport academy per la presportiva Lurusco ora ci sarà il fallo per l'ultima frazionista sono della campana lungo della Luna Sport Academy anche dell'aspetto di una concorrenza che comunque resta in testa con la nostra tila Lurusco che rinviene dal letto ma è la concorrenza che va a chiudere con il trattolo del top con la squadra dei membri di Cantù l'altra squadra della Luna Sport Academy per l'ultimistica Rosetta Merate e Samuel Highline Scaltenigo, Venezia e Fattina Polisco il trattolo del top da Cuneo in zona cambio cambio per la squadra di Scaltenigo Scaltenigo poi si chiude cambiano con la scuola Noi, no, non ti asca, per lì, poi uno sport, l'academy, poi Rosela, poi Sano, l'anna, poi l'amica 2. L'unico, la sua scena, 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 la sua scena. Tanto ci sta, pure il cambio, una scena, la sua scena, la sua scena. Dai, 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 dai che intanto si è riportata nuovamente a campo Scantenigo con... Eccoliamo a cambio Mobili Gantuma ritorniamo in testa Veronica Luciani che deve cambiare per dire segretero ora si arriva adesso per i fattinatori scogliati Eccolete nuovamente in zona cambio l'antretto della squadra della gruppo scottile scatenigo e il titolo di schien arriva anche la squadra per una scorta la squadra di rosa è la meraviglia ed ora cambiamo ovviamente scatenigo arriva il campo e il campionato di rosa e la squadra di rosa e il vantaggio è la di scatenigo si è fatto assai interessante ma ricordo che bisogna stare dentro ai 6 migliori tempi quindi bisogna continuare a minare le danze al di là dello svantaggio andiamo ad occupare le 6 caselle di migliori tempi scatenigo scatenigo arrivare il cambio per una scorta l'academia di scatenigo e la nostra lavorare lasciamo già a fare le ragazze di scatenigo almeno 3 cambiano ora una scorta e la nostra per una scorta di scatenigo per la scorta di migliori tempi che bisogna di svantaggio e la nostra è la scorta di migliori tempi per la scorta Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.